Dopo l'incontro con il premio Nobel per l'economia Michael Spence che ha apprezzato questo progetto innovativo Olimpiadi in Italia, Olimpiadi a Milano, Olimpiadi a Roma. Luca Scolari. Come ho detto anche alla televisione americana, principalmente l'obiettivo dell'Italia è portare l'Olimpiadi. Poi che sia Milano o Roma dipende dalle sinergie, dalle infrastrutture e dalle situazioni che il sistema Italia mette in campo e non dobbiamo più avere cattedrale in deserto ma situazioni e strutture che vivano dall'Olimpiadi in avanti dando occupazione, posti di lavoro e tutto quello che ne segue. Quindi ci deve essere un'autonomia soprattutto economica da parte dell'organizzazione? Assolutamente. Non dipendere da enti, stato eccetera? Assolutamente. L'innovazione del mio progetto, mi ha fatto molto piacere che il premio Nobel per l'economia abbia detto anche lui che si tratta di qualcosa di veramente innovativo è che l'operazione debba essere autofinanziata, autofinanziata dal privato con un tender internazionale cioè una gara internazionale dove è subgetto, vuol dire che se poi succederà che l'Olimpiadi verrà in Italia il tutto andrà a buon fine per il finanziatore, se no ognuno si tornerà a tenere i suoi denari. Quindi tutto deve essere autofinanziato, si cambia mentalità, si cambia strategia e deve esserci un cambiamento radicale anche per il paese grazie a questo evento sportivo. Anche Squinzi mi sembra che abbia già provato questo progetto? Squinzi è un amico da tanti anni, lo rivedrò dopo qualche mese a questo convegno di oggi gliene devo parlare e ritengo che sia contento anche perché Confindustria penso apprezzi queste situazioni che non passano più dalla politica ma passano più che altro da investimenti privati con strutture e idee innovative. Milano o Roma? Milano o Roma ripeto dipende da quello che il Sistema Italia vuole mettere sul piatto come strategia per il futuro, quindi non bisogna più pensare al domani ma bisogna pensare a una situazione per almeno un arco temporale di 10 anni quindi in 10 anni serve le infrastrutture e qualcosa di innovativo più a Milano, più a Roma o l'aria vicino a Roma quindi tutto parte da quello, è chiaro che l'istituzione deve dire questo una volta che l'istituzione ha detto questo allora si può fare un progetto ad hoc facciamo un esempio, Milano sicuramente per noi del nord sarebbe più interessante si potrebbe sviluppare parte delle iniziative sui laghi o in altre situazioni Roma però è più secondo me avvantaggiata come scelta perché c'è una mancanza quasi totale di infrastrutture da Roma verso il sud che aiuterebbe il paese a una crescita più formale in quelle aree Roma però non in piedi bene o male anche se nel 60 l'ha già avuta? Sì, ripeto, non bisogna ricadere sul campanilismo di Roma-Milano o rientrare sul locale ma pensare a un'opera e a un'olimpiadi che unisca il paese e faccia crescere e ripartire il paese dall'economia stagnante attuale di a posti di lavoro e innovazione e qualcosa che rimane per tutto il paese anche se chiaramente proveniamo da aree del nord non dobbiamo ricadere nei formalismi o nell'idea che è meglio un'area o un'altra bisogna veramente fare una strategia, vedere quello che serve al paese e strutturare anche quest'opera su quello che è l'intenzione e la continuità del paese Chiaro che il nord, soprattutto il Lago Maggiore, sorride a Milano perché ci potrebbe essere la possibilità di avere le gare di vela, le gare nautiche sul Lago Maggiore Ma anche qua, con tutte le restrizioni del caso che il CIO dà alle aree nel senso che devono essere abbastanza ravvicinate all'area d'origine dell'Olimpia si parla tra i 30 e i 50 chilometri quindi si lasciano soprattutto il calcio e la vela come opportunità di poter usufruire di altre aree quindi sicuramente i laghi, se dovesse essere Milano, avranno dei vantaggi da queste iniziative ma ripeto ancora una volta, devono essere situazioni che danno rilancio al paese occupazione e nuove opportunità e sinergie per tutte le nostre situazioni Stiamo parlando di 2024, tra 11 anni la vedremo per quella data, la luce in fondo al tunnel in modo tale che le imprese possano investire imprese, parliamo di holding a questo punto, multinazionali Allora, o ci mettiamo veramente a denigrare il paese e scappiamo totalmente da questo ma siccome da italiani dobbiamo cercare di sviluppare e sostenere quello che abbiamo io dico per uscire da un tunnel di occupazione dare una speranza ai giovani, dare qualcosa per il futuro bisogna veramente cercare con le idee, con le situazioni di essere all'avanguardia oggi essere all'avanguardia è anche partire da un progetto che non ha mai fatto nessuno al mondo mi fa piacere che un americano, prima nobile dell'economia dica un progetto italiano che è scaturito anche tra abbastanza le mure amiche sia all'avanguardia rispetto al resto del mondo solo con questa situazione, senza più burocrazia senza più rientrare nei soliti meccanismi italiani che per fare una cosa ci vogliono decenni ma sia dall'industria privata che qualsiasi infrastruttura allora potremmo uscire da questo sistema stagnante e essere veramente apprezzati anche dagli investitori esteri quindi cambiare la situazione e lo possiamo solo fare con una grande manifestazione una grande opportunità dove la manifestazione deve essere la base per il cambiamento di mentalità e di situazioni per il paese che poi possono veramente sviluppare tutto quello che ci sta attorno quindi non più cattedrali nel deserto una volta finita una manifestazione ma qualcosa che rimanga per la vita del paese e di sviluppo e lavoro a tutti i nostri ragazzi